Ciao ragazzi, un saluto a tutti dal team THT. In uno degli ultimi video vi ho fatto appunto vedere la descrizione di questa pistola balestra che è una piccola balestra standard come caratteristiche e insieme a voi oggi volevo scoprire un attimo quali sono le prestazioni diciamo reali di queste piccole balestre cercando di fare alcuni test specifici di penetrazione. Perdonerete i rumori che ci sono di sottofondo ma siamo all'aperto appunto per eseguire questi brevi test. Come vi dicevo le caratteristiche sono quelle più o meno standard, sono dichiarate 70 libre di potenza e una velocità di fuoriuscita del dardo pari a 180 km orari. Ora magari andremo a verificare quant'è la penetrazione appunto, quale sia l'effettiva penetrazione di questo dardo attraverso questo. Una serie di palloncini gonfiati ad acqua e vediamo fin dove riuscirà ad arrivare il nostro dardo. Il dardo che andremo ad utilizzare è un dardo comune con una coda in plastica, un corpo in alluminio e una testa in acciaio e andremo quindi a posizionare i palloncini uno dietro l'altro in linea e vedremo fin dove arriverà il nostro dardo. Secondo me siamo intorno ai 3-4 palloncini non di più, non credo di sbagliare di molto, anche se probabilmente la prova mi smentirà. Non lo so, andiamo a verificarlo insieme. Siamo pronti per eseguire questa prova e andiamo a scoprire insieme quindi fin dove arriverà il nostro dardo. Ragazzi, incredibile! Ho sbagliato totalmente il numero, avrei detto 3-4 palloncini massimo, invece ne ha passati tranquillamente 7. Anche se verso la fine del filmato rallentatore, come noterete anche voi, si nota la freccia che esce dall'ultimo palloncino perdendo potenza. Quindi secondo me non siamo molto distanti, il numero sarà 8, 9, 10, non lo so, lo scopriremo insieme. Bene ragazzi, ci siamo. Abbiamo aumentato decisamente il numero di palloncini per eseguire la seconda prova e scopriamo insieme quale sarà il risultato. Bene ragazzi, eccoci qui, seconda prova terminata. Devo dire che il risultato mi ha decisamente stupito. Non mi aspettavo che questa piccola balestra da 70 libre bucasse fino a 8 palloncini. Come vi dicevo all'inizio, credevo che ne avrebbe bucati 3, massimo 4. In realtà ne ha bucati tranquillamente il doppio. Quindi devo dire, è stata una prova sorprendente. E devo dire che questo delinea anche il fatto che seppur resta un'arma libera vendita, bisogna starci veramente attenti perché è un'arma molto offensiva. Quindi vi ricordo di usarla sempre con la massima cautela e assolutamente in sicurezza. E come sempre, se questa prova vi è piaciuta, mettete un like al video e iscrivetevi al nostro canale in modo da rimanere sempre aggiornati con la pubblicazione di nuovi test, nuove prove o nuove recensioni. Vi ricordo anche che abbiamo aperto un nuovo profilo Instagram e se vi vai, iscrivetevi anche a quello. Comunque troverete tutto in descrizione qui sotto. Ciao ragazzi, alla prossima!